Andando avanti ancora, abbiamo una chicca, visto che abbiamo terminato il discorso solito del sentiero d'oro e dobbiamo riempire l'ultimo tempo, che non si vede nessuno. E' una cosa che volevo già illustrare la volta scorsa e non l'ho fatto, invece cercherò di illustrarlo ora. Allora, l'Antonio De Padova, quel santo incredibile davanti al quale si mettono in ginocchio i bambini. Due cose sono importanti da sapere quando si ha a che fare con i cristiani. La sostanza delle cose è la rappresentazione, è la propaganda. Nei cristiani la propaganda delle cose nasconde la sostanza delle cose. Gesù opera i miracoli, tutti parlano dei miracoli del Gesù, nessuno va ad analizzare le boiate che dice, nessuno va a verificare le stupidaggi che dicono, però quando il missionario va in Africa non è che pratica i miracoli della scenografia, pratica l'insegnamento. E l'insegnamento si trasforma in distruzione della cultura africana, in distruzione della cultura americolatina. Per cui cosa ci interessa a noi? Dividere le due cose, la rappresentazione dalla sostanza. E questa è la prima operazione da fare. Allora, intanto cominciamo a dire perché questo prete è diventato famoso, cioè questo Antonio è diventato così famoso. Bene, questo Antonio è diventato così famoso perché qualcuno gli ha giocato con l'immagine, ha fatto un po' spot pubblicitari alla grande. Cioè ha riempito la testa delle persone con martellamenti. Questo personaggio che ha riempito la testa con i martellamenti è tale Antonio Maria Locatelli. Il personaggio di cui parliamo intui, nello studio appassionato della vita e della dottrina, il frante Antonio. Io ho dato una scorsa ai sermone, se fanno veramente il volta stomaco. L'antidodo efficace per ogni epoca, la sua compresa, alle tentazioni del laicismo radicale, dell'ateismo proclamato e comunque dell'assoppimento del senso religioso etico del popolo, con il conseguente scadinamento della capacità di testimoniare le virtù cristiane e di esprimere valori di solidarietà sociale. Questo Antonio Maria Locatelli, partendo da questo pensiero, lui che è nato nel 1839, per cui praticamente circa 500 anni dopo, 600 anni dopo, ha pensato bene di fare questa operazione. Questo prete, a cavallo del 1880, e innamorato di frate Antonio, si risveglia esigente l'anima dell'organizzatore. Locatelli era stato studente brillante fin dal liceo, riportando eminenza di tutte le materie, come si diceva allora. Un allievo da Trenta e Lode, si direbbe oggi. Lo testimoniano i più autorevoli biografi, Monsignor Ireneo Daniele in testa. E però, alla generosa figura del sacerdote, il binomio carità-cultura appariva inscindibile. Quando riuscì a entrare in proprietà della casa di famiglia in via Cappelli, acquistò un torchietto a mano e notificò alla Camera di Commercio di Cittadina la nascita della tipografia antoniana, come nuova creatura a fianco di quella tipografia del seminario, che era stata antesignata lo strumento di evangelizzazione e divulgazione culturale del Santo Vescovo Barbarigo. Nel 1886 avviò la stampa del Santo di Padova e il suo Tempo, rivista che durò un lustro, perché troppo impegnativa per i lettori di scarsa intuizione e troppo poco scientifica per i dotti. Ma il divulgatore di razza bastò poco tempo per aggiustare il tiro. Il 15 settembre, in pratica, la gente del popolo non la leggeva, la gente che sapeva come erano le cose diceva che era merda. Questo è il significato. Il 15 settembre 1868, siamo del 1888, varò il mensile Il Santo dei Miracoli in tre edizioni, italiana, francese e tedesca, un foglio che intendeva unire i contenuti della fede cristiana alla devozione antoniana e la trattazione di temi, allora drammaticamente sentiti, relativi alla promozione umana nel sociale. E' così, sto personaggio, con una macchina da stampa nel 1888, tanto lui era ricco, aveva ereditato una casa e si era comprata una macchina da stampa, cominciò a stampare un puscoletto su, oh come bravo suo Antonio, oh come bravo suo Antonio. Larghissima diffusione, nato come mezzo di collegamento tra migliaia di aderenti associazioni universali e Sant'Antonio, lanciata dal prete pochi anni prima e benedetta anche dal Papa con ispirazioni precise, risaldare i vincoli fra i soci nella pratica religiosa attraverso il culto della santità esemplare di Antonio, rinnovare il credo cristiano nelle opere che esso propone ai fedeli soprattutto verso il prossimo più povero e sofferente. Infatti l'associazione fu cura di iniziative come il pane dei poveri, non eliminazione della povertà, notate bene, la cura degli orfani e cominciarono ad avere i lager per i bambini, l'assistenza spirituale, cominciarono a umiliare chi si sentiva colpevole, e la corrispondenza e il sostegno delle missioni. Dentro gli obiettivi indicati da Don Locatelli sarebbero maturate nei decenni successivi grandi relazioni sociali e umanitarie cristianamente ispirate su impulso delle figure guida di alcuni vescovi e di imminenti personalità religiose e laiche, citiamo l'opera della provvidenza, eccetera, il santo dei miracoli e così via. Questo è un articolo apparso sul Gazzettino del 15 giugno 1998. Praticamente l'Antonio è diventato ciò che è grazie a una propaganda meticolosa, grazie a tamburi battenti e l'ignorante che era è sempre ignorante però santificato. Allora andiamoci a prendersi la vita di Antonio da Padova e abbiamo un manuale di propaganda cattolico, un manuale di propaganda cattolico che è edito da San Paolo, dalle Pauline in pratica, e è stato scritto da tale Sheila Wardling e si intitola Antonio di Padova, il santo dei miracoli. Questo è un libro di propaganda cattolica, non è un libro che scrive un pagano, che è un ricercatore storico, questo è un libro di pura e semplice propaganda cattolica. Allora, vediamo un po' da dove nasce sto cattolicesimo. Già nella prima trasmissione vi ho parlato dell'uso dell'ignoranza, cioè la necessità che le persone siano ignoranti. E questo faceva parte della regola francescana e veniva imposta anche da Antonio. Cioè Antonio aveva bisogno che le persone fossero ignoranti perché questo era l'unico modo con il quale lui poteva esistere. Il sapere, dice, e questo è virgolettato ed è sempre tratto da questo libro, il sapere toglie a molti la docilità, cioè sapere le cose indica chiedere libertà, per cui uno si ribella alle condizioni. E non consente loro di piegarsi ad attività umili, in realtà non consente loro a sottomettersi. Per cui la prima cosa che doveva fare sto frate era la costruzione dell'ignoranza. Cioè questa è la cosa fondamentale, fondamentale, che noi dobbiamo pensare. Cioè la gente non deve sapere. Quando io vi dico il mio poeta Goliarda, che troverete a Vadoere, i Goliardi non furono altro che un movimento di universitari durante il Medioevo, che quando le università vennero aperte a persone diverse di quelle che erano le comunità religiose, la formazione dei preti, dei vescovi, eccetera, questi studenti universitari capirono la differenza che c'era, cioè capirono subito la differenza che c'era fra la propaganda cattolica e la realtà delle cose. E formarono delle comitive di Goliardi, appunto, che andavano di città in città a manifestare un pensiero diverso di quello che la religione imponeva. Per cui, come l'istruzione, come il sapere, la conoscenza è diventata pubblica, subito si è scatenato lo smembramento di quello che è stato la Chiesa Cattolica. Vi ricordo che Pio X, credo che sia, non vorrei sbagliarmi, o Pio no, no, fece una guerra feroce, feroce, perché la donna non fosse istruita, cioè contro l'istruzione femminile, e per l'istruzione femminile combatterono le organizzazioni socialiste e le organizzazioni di sinistra. Per cui, se oggi le donne sanno leggere e scrivere, hanno avuto questo, grazie alle lotte dei socialisti, dei comunisti e degli anarchici, mentre invece la Chiesa Cattolica ha tentato in tutti i modi di impedire che le donne leggessero e scrivessero. Questo, tanto per ricordarcelo, tanto per non dimenticare, dopo di che la Chiesa Cattolica fa le scuole private, chiede i finanziamenti per distruggere la scuola pubblica. Non dimentichiamoci mai questo. E per favore, sul 740, firmate per lo Stato. Può farvi schifo lo Stato? Benissimo. Però ricordatevi che la Chiesa Cattolica è orrore puro, è distruzione del divenire umano, è saccheggiamento di quello che è la vita delle persone. Per cui lo Stato fa meno danno e comunque l'ultima spesa secondo me non è stata male. Bene o male ha variato quelle che erano le condizioni in Albania, cioè ha contribuito a variarle. Anche, chiaramente, sono arrivati anche subito i cattolici per mangiare la torta. Però, se non altro, i migrati ce ne sono un po' meno. Per cui, pensiamoci un attimino prima di dare i soldi all'orrore cattolico. Allora, questo è il punto di partenza di Sto Antonio. Dopodiché, passiamo a pagina 61, leggiamo. Fin dal 1203, quando Domenico era un canonico regolare di Sant'Agostino, lui e il vescovo di Osma avevano viaggiato attraverso il sud della Francia in missione diplomatica per Alfonso IX, re di Castiglia, e furono sorpresi dal livello di penetrazione degli eretici. Passando da Tolosa, furono trattenuti da un uomo che Domenico aveva scoperto appartenere alla setta dei Catari ed egli profuse tutte le sue energie in un dialogo con lui, ma senza alcun successo evidente. Infatti, come fa un cattolico scontrarsi con uno che va alla ricerca della verità, della giustizia, della libertà? Non è possibile. Scoprì però che la grazia divina aveva concesso al suo ospito un'esperienza come quella di San Paolo sulla via di Damasco. Questo è praticamente quello che lui aveva trovato l'ospite, Cataro, aveva avuto un'esperienza proprio di illuminazione. Questo incontro personale rivelò la sua vocazione. Praticamente, finalmente, Domenico ha capito la sua vocazione e decise di sradicare l'eresia fondando l'ordine dei predicatori. Ricordiamoci bene, i dominicani sono dei torturatori, sono dei torturatori assoluti. Sono l'ombra nera dell'inquisizione ma sono dei macellai per compiere opera missionaria dovunque ce ne fossero bisogno. Nel 1215 il sogno era diventato realtà con l'approvazione papale ma nel 1221 poco dopo il suo incontro con Francesco Domenico morì e benché l'ordine ci fossero molti abili predicatori lasciò un vuoto difficile da colmare. Indovinate chi è che ha colmato quel vuoto? Antonio. Antonio continua la sua opera in Francia per macellare i catari. Bene, i catari in Francia si chiamavano catari ma vivevano con il nome di albigesi. In Francia prendo il nome di albigesi. Vediamo un attimo chi sono questi catari. Dunque, i catari molti fattori adesso stanno arrivando i ragazzi per cui fra poco dovrò cessare la trasmissione. Dunque, praticamente i catari combattevano la simonia e la corruzione della chiesa e conseguente indibolimento dei poteri centrali. Il movimento dei catari innestando il fattore sociale a quello religioso portò con sé un fanatico anche questi cattolici sostrato ideale di malcompreso e egalitarismo. Guarda caso, i catari volevano che gli uomini fossero uguali. I catari avevano una loro gerarchia dunque e egalitarismo su un piano dottrinale i catari riprendevano l'imposizione gnostica e manichea dell'irriducibile antitesi fra puro spirito il bene e materia il male fra luce e ombra per la quale l'umanità era travagliata fra questi due opposti principi dominanti l'anima apparteneva al primo il bene e il corpo apparteneva al secondo il male. Praticamente era solo una seta religiosa che aveva delle forti ramificazioni sociali e venne combattuta da Domenico il quale non era in grado né lui né Antonio né gli altri di confrontarsi cioè la ferocia della chiesa cattolica talmente forte talmente manifesta che non poteva battere nessuna eresia fu questo dunque i catari vennero macellati in varie occasioni ci furono varie guerre finché a un certo punto un tale è proprio sotto l'epoca di Antonio un tale innocenzo terzo vi ricordate il macellaio delle streghe quello che ha dato a Spencer insito mandato di torturare chiunque volesse gli piaceva molto la tortura a questo personaggio allora in Francia protetti col favore di Conte Raimondo IV di Tolosa gli albigesi si impossessarono pensate con la forza dei beni della chiesa ricordate che la chiesa i beni li ha tutti rubati per cui si sono tutti impossessati con la forza infatti anche il delegato Costantini è una truffa tanto per ricordarcelo questo e dei possedimenti di altri conventi conciliante pensate quanto era buono innocenzo terzo offrì loro perdono purché tornassero all'ordine e all'obbedienza cattolica in pratica gli ha detto senti io vi perdono basta che voi mandatevi la vostra fede mandatevi a tutte le vostre cose ritornate ad obbedire a me e vi mettete in ginocchio davanti a me e che ne dite vi perdono questi altri hanno preso il suo il suo magnaccia perché solo un magnaccia può prestarsi a un'operazione del genere non messaggero ma magnaccia e l'hanno ammazzato era tale Pietro di Castelnò questo fu un'offesa quest'atto innocenzo terzo decise di indire una energica crociata detta esattamente crociata contro gli albigesi ne abbiamo già parlato di questa crociata durante la quale sotto il comando di Simone di Monforte e di Arnaldo di Sittò i settari furono sterminati e la diffusione della dottrina violentamente repressa il conte di Tolosa Raimondo IV dovete piegarsi una pace che se gli dette il perdono papale lo costrinse a cedere i suoi beni passati poi alla Francia il quarto concilio lateranese del 1215 e guarda caso c'è sempre questo Antonio che ci lavora autorizzò anche le autorità civili a punire e perseguire gli albigesi e i loro difensori e la lotta finissò nel 1229 col trattato di MAUX il tribunale dell'inquisizione continuò però per suo conto a colpire gli eretici molti di quali furono costretti ad emigrare alcuni di essi trovieri e poeti a rifugiarsi in Catalogna a Ragona e Italia e vi portarono oltre alle rite e alle melodie i germi del pensiero eretico allora contro sta gente sto Antonio decise di ammazzarli cioè aveva già deciso Domenico ma Antonio li ha seguiti ma vediamo un attimino siccome io parlo molto male dei cattolici no? molto male dei cattolici vediamo un attimino cosa dice invece un libro cattolico a proposito di queste cose di tortura eccetera dice il libro cattolico nel frattempo Domenico che si dedicava alla conversione con la forza dell'argomentazione furono decine di migliaia gli ammazzati sterminati torturati decine di migliaia tanto per essere chiari aveva raggiunto nel 1206 il sud della Francia undici anni dopo diceva amaramente dove le benedizioni non possono far nulla possono essere d'aiuto le busse in pratica lui non faceva altro che incitare la tortura e davanti a questo santo mettete in cinocchi i bambini credo che i cristiani devono vergognarsi e andiamo avanti costo costo Antonio ma Antonio no Antonio non fa queste cose Montpellier andiamo a pagina 89 era una roccaforte dei cattolici ortodossi nel 1224 vi era stato ottenuto un concilio nel tentativo di imporre Raimondo VII conte di Tolosa avete sentito prima l'espulsione dell'eresia dei suoi domini e il ripristino dei diritti della chiesa la pressione fu tale che egli effettivamente intraprese queste azioni e Antonio si trovò sotto la sua protezione quando si ricotta Tolosa dove gli abigisi erano forti la provincia era ancora agitata e ci voleva un coraggio eccetera 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 per andarci bene abbiamo visto come questo Raimondo era stato convinto ma il nostro amico Antonio il nostro amico Antonio fu uno dei fautori fondamentali di una di un concilio vediamo un attimo se lo troviamo di un concilio che decise una crociata contro i catari vediamo un attimino se lo troviamo era fece un concilio contro i catari adesso non me lo trovo più accidenti anche questi segni qua che mi sono scappati vabbè non ha vediamo un attimino forse quest'altra eccolo qua vediamo univano per le relazioni eccolo qua nel novembre del 1225 siamo a pagina 93 di questo libro Antonio partecipò al sinodo di Bourget fra il fiume Clare e la Loire era presente come superiore della città con la responsabilità di diversi conventi alle dipendenze dirette del provinciale il che mostra la grande fiducia che le autorità dell'ordine avevano in lui questo incarico che gli univa alla predicazione e all'insegnamento era tale da richiedere tatto e senso di responsabilità i cronisti non sono concordi nell'indicare l'importanza di questo sinodo per uno vi erano presenti 6 arci vescovi 100 vescovi e numerosi sacerdoti abati come anche Raimondo VII Conte di Tolosa e l'argomento in questione era una crociata contro gli albigesi cioè l'argomento in questione era macellare gli albigesi e questo fatto dall'Antonio di Padova il quale Antonio di Padova andiamo un attimino a vedere sto Antonio di Padova perché qualcuno ci viene anche a raccontare che sto Antonio di Padova lui ce l'aveva aiutava i poveri lui aiutava i poveri vediamo cosa ci dice invece un libro cattolico che cerca di non essere sputtanato più di tanto ricordatevi sempre quando leggete un libro cattolico voi non trovate la menzogna pura e semplice trovate la non verità cioè trovate gli fatti messi in maniera tale da non arrecare danno avete visto ha partecipato a un sinodo ha solo partecipato a un sinodo bene quel sinodo decide una crociata dove ci sono migliaia e migliaia di morti per cui Antonio è responsabile della macellazione di migliaia e migliaia di persone prendete conto a questo in fondo era solo un sinodo cosa volete che sia mica che lui è andato la con la spada ad ammazzarle era solo un sinodo che ha deciso la mattanza vediamo un attimo di solito dice a pagina 73 di solito questo Antonio cercava di spingere i suoi ascoltatori al pentimento e alla vera contrizione e alla decisione di correggere la propria vita in questo aveva un successo straordinario e nel seguito alla sua attività dovete avere sempre con sé un certo numero di confessori per fare fronte alle richieste dei penitenti cercava di sperare speranza e di offrire aiuto eppure essendo assolutamente genuino non disdegnava di ricorrere al fascino personale e la sua sensibilità per ottenere un atteggiamento favorevole da parte delle folle attenzione ora ma con i ricchi e potenti sapeva essere schietto e aspro come Gesù con i farisei non sappiamo quale fosse il luogo e l'occasione ma si racconta che abbia corretto i benestanti con assoluta franchezza quando riteneva che fosse suo dovere farlo non c'è in questo libro non ci dice nel sermone numero 7 lui parla contro i ricchi no dice che noi altri non sapevamo niente però noi altri pensiamo che lui abbia fatto questo cioè noi altri pensiamo però nonostante ci sia un libro di sermoni voi queste robe non le trovate e non le trovate proprio come impostazione in generale anche perché se queste cose le doveste trovare lui avrebbe combattuto la corruzione e la simonia nella chiesa avrebbe combattuto i ricchi che la chiesa faceva riferimento cioè praticamente sarebbe stato un cataro per cui lui non poteva assolutamente combattere i ricchi perché questi erano parte integrante della chiesa cosa significa combattere la simonia significa dire a quella chiesa voi non dovete rapinare la povera gente voi non dovete portare via i soldi della povera gente dicendo che gli vendete gli indulti gli vendete le giaculatorie cioè voi questo non potete fare questo significa combattere la simonia ebbene se lui avesse combattuto la simonia avesse combattuto contro i ricchi sarebbe diventato un cataro e sarebbe finito sul ruogo invece lui faceva le crociate contro i catari cioè contro chi combatteva la simonia per cui era d'accordo con la chiesa cioè fare il delitto di simonia il peccato scusate di simonia per cui non poteva assolutamente fare questi discorsi che gli si vogliono attribuire perché oggi farebbero molta scena allora questa è l'attività di Antonio Antonio da Pado è un assassino è un macellaio contro persone che la pensavano in maniera diversa e che agivano per vivere in maniera diversa per cui Antonio è un assassino allora bisogna un po' mascherare questo essere assassino e mascherare questo essere assassino è un po' un casino ci viene narrato si pensa che anche l'altro ha detto che allora ecco Antonio che fa i miracoli eh lui fa i miracoli cioè alla donna poverina che gli chiede di trovare non so la moneta che ha perso lui gli fa trovare la moneta all'altro poverino che dice che forse vorrebbe guarire gli fa trovare la guarigione all'altro che dice io come sono ma tu un giorno sarai un fiero difensore della fede contro i saraceni bene lui sa che lui sarà un fiero difensore della fede un martire della fede contro i saraceni cioè praticamente la mattanza il massacro di migliaia e migliaia di persone la distruzione del divenire umano il disprezzo per la vita che aveva Antonio viene mascherato dalle puttanate quotidiane e allora si fa sparire l'arroganza il disastro il sangue la distruzione la mattanza la si nasconde dietro la miracolistica quotidiana ed ecco che un macellaio diventa un benemerito diventa un essere dal quale mettere in ginocchio le persone questa è l'assurdità questa è una cosa veramente aberrante cioè questo è il fare della chiesa cattolica anche perché ricordatevi sempre che nella chiesa cattolica essere fatti santi significa essenzialmente aver distrutto il divenire umano essersi messi al servizio della distruzione aver messo in ginocchio chi non si poteva difendere se qualcuno ha qualcosa da obiettare a questo ricordatevi che questo libro è Antonio di Padova il santo dei miracoli edito da San Paolo della Shail Ward Ling dopo andate in una libreria paulina cattolica e ve lo comprate e questo e tirar fuori questo dopodiché vi ho fatto delle citazioni dall'enciclopedia Oepli sui catari e gli albigesi e vi ho fatto delle citazioni di chi ha fatto propaganda di chi ha costruito questo mito esattamente a tavolino esattamente solo propagandando e l'articolo è preso dal gazzettino del 15 giugno 1998 io non mi sono inventato niente se no la rabbia e la feroce per dire che il divenire umano va protetto dall'orrore cioè l'orrore non deve distruggere il divenire umano questa è mia perché questa è la mia stragoneria la mia stragoneria consiste nel costruire gli individui affinché gli individui gli posso costruire la propria libertà e costruire il proprio divenire e non essere in ginocchio davanti a nessun assassino qualunque forma esso prenda e quando dico nessun assassino non dico che lo schiavo ha il diritto di rivendicare il proprio diritto di essere schiavo non ha quel diritto il padrone non ha il diritto di essere libero di avere schiavi il propagandista di falsità non ha il diritto di propagandare falsità il guardiano dei campi di sterminio non ha il diritto di essere guardiano dei campi di sterminio il ladro del lavoro di altre mani non ha il diritto di essere ladro di lavoro di altre mani lo stupratore non ha il diritto al rispetto per essere stupratore ricordatevi questo la vita è la prima regola della nostra esistenza la vita è la cosa che noi dobbiamo considerare non la costruzione della schiavitù e qui finisco la trasmissione magia stragoneria paganesimo io non vedo arrivare nessuno metterò su un po' di pubblicità e dopo metterò su un po' di un po' di musica io vi ricordo sono Claudio Simeoni vi do il mio indirizzo è piazzale parmesan 8 marghera su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni via del Vignole 4 però il numero di telefono è uguale vi do l'indirizzo dell'istituto mediterraneo di studi politeisti che è casella postale 53 marostica vicenza il numero di telefono dell'istituto è 0338 39 10 727 e vi ricordo la conferenza che terremo trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria è una conferenza di battito venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20 e 30 in sala radio gamma 5 via Belzoni 9 Cadoneghe Padova io vi ringrazio di avermi ascoltato vi ringrazio di avermi seguito spero di ritrovarvi tutti quelli che possono in conferenza ricordate che le nostre conferenze sono dei veri e propri combattimenti e in quei combattimenti costruiamo noi stessi cioè io chiaramente svilupperò il mio discorso e spero che voi svilupperete il vostro e spero di trovare dei punti in comune dei punti in cui ritrovarci se non ci ritroviamo non ha importanza saremo amici come prima avremo qualcosa da riflettere dall'una dall'altra parte e con questo continueremo a costruirci grazie per l'ascolto e a risentirci vi ricordo che questo è Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM e a risentirci giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti